SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC e a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotec, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia, nella refrigerazione industriale. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Teleromagna. Come sempre, tanti i temi che andremo a toccare, tante le notizie di cui parlare dalla cronaca allo sport, alla cultura e tanto altro. Prima i titoli. Tragica fatalità, risolto il giallo della famiglia di sudamericani ritrovata cadavere in una villetta. Mamma e figlia sono morte e intossicate. Il compagno alla vista dei corpi si è suicidato. Stangata in spiaggia, la Polizia Municipale ha sequestrato merce per 15.000 euro nell'ambito dei controlli contro l'abusivismo commerciale. Allarme edilizia non accenna a migliorare la condizione di sofferenza del settore delle costruzioni nella Ravennate. Emergenza smog in città. Nel 2015 i limiti di inquinamento dell'aria sono stati sforati per oltre 100 volte. Rilanciare l'economia, questo l'obiettivo di un piano varato dal comune per incentivare nuovi insediamenti produttivi, riqualificare le aree industriali e creare occupazione. Dentro o fuori l'Uni Euro Forlì si affaccia alla gara decisiva contro Valsesia con la consapevolezza di non poter fallire. Squadra in campo domani sera al Villa Romiti. Ritrovati in studio, come avete sentito nei titoli si tratterebbe di una tragedia e non di omicidio. E' stato risolto il caso dei tre cadaveri, una famiglia di sudamericani ritrovati in una villetta di villaggio argentina a Misano Adriatico il 13 gennaio dello scorso anno. Sentiamo. A oltre un anno di distanza dal ritrovamento dei cadaveri è stato risolto il giallo di Misano Adriatico. La famiglia di sudamericani ritrovata senza vita in una villetta di villaggio argentina sarebbe vittima di una tragedia causata da un incidente. Secondo la perizia del consulente del PM, la 44enne Adriana Stadie e la figlia Sofì sono morte a causa del monossido di carbonio fuoriuscito da una stufetta posta in camera da letto. Una volta rientrato a casa, Alvaro Alonso Cerda Cedeno, aiuto cuoco 35enne originario dell'Equador, alla vista dei corpi della compagna e della figlia, avrebbe deciso di farla finita tagliandosi le vene con alcune lamette. Gli inquirenti hanno appurato che il tasso di gas letale nel corpo dell'uomo fosse inferiore a quello necessario per uccidere. La stufa, tuttavia, non è stata ritrovata all'interno della stanza. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero, l'uomo, preso dalla disperazione, ha gettato l'apparecchio fuori casa e poi è rientrato per togliersi la vita. I corpi sono stati ritrovati solo due mesi dopo. Vista la dinamica ipotizzata, l'APM ha richiesto l'archiviazione del caso, non essendo state rilevate implicazioni di persone terze rispetto ai coinvolti. E si avvia verso il commissariamento il Comune di Cesenatico dopo la mancata approvazione del bilancio 2016. Una situazione delicata, visto le eminenti elezioni nel Comune Riverasco. Ieri è stato l'ultimo giorno utile per approvare il bilancio e nonostante fosse stato convocato un consiglio comunale straordinario, non si è riusciti ad arrivare ad un'approvazione definitiva. Dopo la bocciatura del consiglio, i gruppi di opposizione già in mattinata avevano rese note le loro posizioni. Questa ultima bocciatura toglie a Buda il sindaco il titolo e le funzioni di primo cittadino che verranno così affidate ad un commissario fino all'insediamento del nuovo sindaco che avverrà al più tardi entro un mese. Nel caso Cesenatico vada al ballottaggio. Arrimini ora per parlare di abusivismo commerciale. Primi soli, prime stangate. Nel weekend appena passato, agenti in incognito della Polizia Municipale hanno sequestrato merce per 15.000 euro. Vediamo. Tre sequestri amministrativi di merce non contraffatta. Tra i sanzioni per un totale di 15.492 euro a diversi venditori irregolari, cittadini del Bangladesh intenti a vendere bigiotteria e teli sulla renile. Entrato in piena attività questo fine settimana il nucleo operativo anti-abusivismo commerciale della Polizia Municipale di Rimini. Tra sabato e domenica gli agenti in borghese hanno controllato spiagge e lungomare utilizzando motocicli e autoveicoli privi di insegne. Sei i rinvenimenti di merce abbandonata dai venditori irregolari. Mentre una cittadina cinese è stata denunciata a piede libero per esercizio abusivo di professione perché sorpresa in spiaggia ad effettuare massaggi ai clienti. Nel corso delle ultime stagioni l'azione della Polizia Municipale riminese si è concentrata non solo sul contrasto del fenomeno in spiaggia, ma anche sulla ricerca, l'individuazione e l'eliminazione dei depositi utilizzati a ridosso della renile e nei centri di distribuzione delle merci. Una strategia operativa condotta in sinergia con le forze dell'ordine del territorio che nel corso del 2015 ha portato ottimi risultati sia in termini numerici che qualitativi. Lo scorso anno sono stati 1838 gli interventi a contrasto del commercio abusivo verbalizzati in spiaggia, 160 i controlli effettuati in altre aree, 1973 i controlli commerciali che hanno prodotto 254 notizie di reato conseguenti, 948 verbali di contestazione amministrativa. E ci occupiamo ora di una grave incidente ieri sera alle 21.30 a Ravenna. Il bilancio di due feriti, il fatto è accaduto in uno dei principali incroci della città. La dinamica è tuttora al vaglio degli agenti e della Polizia Municipale, ma da una prima ricostruzione dell'accaduto pare che una Opel Astra condotta da un 45enne di Mantua stesse percorrendo la carreggiata in direzione centro quando è stata centrata da un Opel Corsa sulla quale viaggiava una Ravennate di 21 anni. La giovane è stata estratta dai vigili del fuoco e dall'abitacolo e trasportata con il codice di massima gravità all'ospedale di Ravenna. Lesioni di media gravità invece per il 45enne. I sanitari del 118 hanno operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. Cambiamo argomento. I due figli adolescenti del sindaco di Forlì, Davide Drey, sono stati sorpresi mentre imbrattavano con dell'escritto muro dei giardini pubblici farnetti. A riportarlo il quotidiano La Voce di Romagna, che spiega come i ragazzi di 15 e 17 anni sarebbero stati beccati qualche giorno fa da una pattuglia antidegrado, attività di controllo dei vigili in borghese, voluta proprio dal primo cittadino forlivese. I giovani sono stati segnalati alla sezione dei minori della procura di Bologna. I carabinieri di Ravenna hanno arrestato un 31enne con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, come vediamo dal nostro portale di TR24. Vedete appunto la fotografia. L'uomo, che ha diversi precedenti per reati contro il patrimonio, aveva allestito una piantagione di marijuana sul balcone di casa e sono state rinvenute 14 piantine ancora in fase di crescita, curate e nutrite. Nell'abitazione sono state sequestrate anche alcune dosi di droga già confezionate pronte per l'accessione, probabilmente frutto di piantagioni precedenti. Una notizia di economia ora calo delle imprese e dei lavoratori del settore edile. Continua anche nella ravennata e la sofferenza del settore delle costruzioni iniziata da qualche anno. Vediamo allora quali sono i numeri nel prossimo servizio. Oltre 3.500 lavoratori in meno nel corso degli ultimi otto anni nel settore dell'edilizia Ravenna. Il dato preoccupante emerge dal report della Confartigianato ed è ancora più serio se si considera che il 10% delle perdite sono state registrate nel corso dell'ultimo anno. E dalla stessa associazione sono state fornite alcune indicazioni e proposte per migliorare la situazione, come ad esempio snellire il regolamento urbanistico e dare la possibilità di trasformare alcuni negozi di Ravenna, usciti dall'attività commerciale, in mini appartamenti per anziani. Nel corso degli ultimi anni le imprese scritte alla Cassa Edile di Ravenna sono diminuite del 57%, passando da 1.199 a 516. Di conseguenza il dimezzamento delle imprese ha causato una riduzione del 57% dei lavoratori e delle ore retribuite. Le difficoltà delle imprese di costruzione sono anche nel settore dei lavori pubblici. I finanziamenti concessi alle imprese Ravenna registrano invece flessioni meno accentuate rispetto ad altre province della regione Emilia-Romagna. Le proposte della Confartigianato per aiutare la ripresa del settore edilizio vanno in diverse direzioni, ma di fondo c'è l'idea che sia necessaria meno burocrazia per le ristrutturazioni e che gli incentivi statali e urbanistici siano una reale risposta per la ripresa del settore. E torniamo ora a parlare di smog e di qualità dell'aria. Rimini è di nuovo allarme. Nel 2015 le principali stazioni dell'ARPA hanno sforato limiti per oltre 100 volte. Vediamo. Polveri i fini, PM10 e PM2,5 entro i limiti in regione nel 2015 per quanto riguarda la media annuale, ma in aumento il PM10 a proposito del numero di superamenti dei limiti giornalieri, con 23 delle 43 stazioni della rete regionale ancora fuori dalla norma. A Rimini, due stazioni su quattro, Rimini-Marecchia con 45 superamenti e Rimini-Flaminia con 59, hanno oltrepassato il limite dei 35. E questa è in sintesi la situazione registrata in Emilia-Romagna e nel riminese lo scorso anno, dove le condizioni atmosferiche avverse sono state quelle che nell'ultimo decennio hanno favorito più di ogni altro le concentrazioni degli inquinanti. Per il biossido di azoto persistono situazioni oltre alla norma. Sono infatti 5 su 47 le stazioni in regione che hanno registrato medie annuali al di sopra dei limiti consentiti. A Rimini, solo una stazione su quattro, Rimini-Flaminia, ha fatto registrare una media annuale al di sopra dei limiti consentiti. La situazione più critica è quella dello zono. Benché dal 2011 le concentrazioni siano in netta diminuzione, questa inquinante continua a registrare in tutta la regione e nella provincia di Rimini valori superiori ai limiti. La popolazione esposta a condizioni di inquinamento superiori ai limiti è stata pari al 30% del totale in regione e del 29,8% nella provincia di Rimini per le polveri fini e al 100% per l'ozono sia in Emilia-Romagna sia nelle riminese. Continuano a non presentare criticità agli inquinanti primari, quali monossido di carbonio, benzene e biossido di zolfo, che risultano ampiamente al di sotto dei limiti. Imola riparte dal lavoro e si presenta tirata lucido per rendersi attraente a nuovi investimenti. Ha partito a Imola il nuovo progetto per rilanciare l'economia. Scopriamo di più. Un piano per incentivare nuovi insediamenti produttivi, di qualificare aree industriali esistenti e creare nuova occupazione, quello messo in pista dalla pubblica amministrazione di Imola. Da ora al 2019 per imprese manifatturiere, agroalimentari e commerciali che vogliono stabilire nell'immolese nuovi siti produttivi, logistici o commerciali, saranno predisposte a agevolazioni economiche, organizzative e burocratiche in collaborazione con Eracom per gli allacci a canto per la fibra e attraverso il Welcome Kit del Comune di Imola. La Manufacturing Zone Restart è un progetto che vede la collaborazione di diversi soggetti per portare una serie di benefit e incentivi con l'obiettivo di riportare qui dei siti produttivi e quindi occupazione e rioccupazione. In primis l'amministrazione con un suo Welcome Kit. Abbiamo rispolverato una vecchia delibera del 2014 che va fino al 2017, dicembre 2017, che consente a tutte le nuove partite IVA che investono nel territorio di avere sconti su Tari, Tasi e sui costi di, diciamo, sulla tassazione in generale. Abbiamo deciso di dare tempi certi alle imprese che vengono qui da noi, quindi in 60 giorni daremo i tempi per i permessi per costruire. Poi c'è Eracom che attraverso una mappatura mette a disposizione le infrastrutture in tempi certi, quindi gli allacci, e potrà dare una scontistica in base ai servizi scelti. La stagione estiva è alle porte. In Riviera si sta programmando, sì, il divertimento, ma anche le regole. Con il sindaco di Cervia abbiamo parlato nei nostri studi di movida e di fonometri. Una tematica dibattuta che poi sappiamo a volte si risolve praticamente non nulla, però è essere il tema appunto della movida. Come vi organizzate e quali sono le regole? Sappiamo che i giovani, o comunque tutti, vogliono divertirsi, però sappiamo che le regole vanno rispettate. L'esperienza che abbiamo portato avanti è Milano Marittima e Cervia, cioè dei fonometri, che sono dei sistemi telematici che abbiamo sviluppato molto negli anni, che permettono di avere una sorta di tutor che registra rumori, orari di spegnimento, di accensione degli impianti sonori. E diciamo che da quando abbiamo introdotto questo strumento sono ridotte moltissimo le segnalazioni di caos e quindi di inquinamento acustico, tecnicamente si chiama, e quindi dal di lì abbiamo cercato anche di sviluppare una cultura acustica, una cultura di rispetto anche degli altri da parte degli operatori. Devo dire che abbiamo ottenuto insomma dei risultati importanti, io in particolare l'ho seguito anche da assessore prima dell'esperienza di sindaco, e devo dire che negli ultimi anni siamo riusciti insomma ad abbassare un po' i livelli, comunque garantire un divertimento, ma soprattutto anche cercare di spingere gli operatori a innovare la loro offerta di trattenimento, che adesso sicuramente è anche un po' più soft, insomma le discoteche hanno dei problemi, quindi il caos a tutti i costi per fortuna sta andando un po' fuori moda e invece va di moda insomma una fruizione magari di spazi pubblici, di locali all'aperto, anche di spiaggi, stabilimenti balneari, però ecco, sempre con musica, con divertimento, però soft, ecco, quindi in maniera rispettosa un pochino di tutti, anche in particolare delle orecchie di chi sta lì. E a proposito di turismo, torniamo sulla portale di Teleromagna24.it per leggere di una buona notizia per Riccione e Rimini, che sono tra le dieci mete preferite per il ponte del 2 giugno. Le destinazioni nazionali più ricercate dunque dai viaggiatori italiani per il prossimo ponte. Questo emerge da un'indagine condotta da Hotels.com, sito specializzato nella prenotazione di hotel online. Il posto preferito dagli italiani per il ponte è Roma, seguita da Firenze e da Rimini, poi Parigi, Venezia, Barcellona, Milano, Londra, Verone e Riccione, che grazie ad un aumento delle ricerche del 300%, ha guadagnato due posizioni, riuscendo ad entrare nella top 10. Dunque buone notizie per il territorio per quanto riguarda il turismo. Noi continuiamo con altre notizie, parliamo di nuovi lavori sul fiume Rubicone. A Savignano la Giunta Comunale ha approvato una nuova serie di interventi per la riqualificazione di quello che è un tratto di storia della civiltà. Via Libera alla fase 2. Negli ultimi giorni il Comune di Savignano ha approvato il progetto sulla seconda parte dei lavori relativi alla riqualificazione del fiume Rubicone nel tratto che va dalla Via Emilia al Ponte Romano. Siamo già partiti con dei lavori l'anno scorso di sistemazione di tutto l'alveo perché abbiamo una particolarità singolare appunto a Savignano che il Ponte Romano e il Rubicone sono parte integrante del centro storico per cui come tale vogliamo far sì, questo è stato il primo straccio di lavori, il secondo partirà nel 2017, vogliamo far sì appunto che diventi un luogo urbano e un luogo vissuto dalla cittadinanza. Un progetto che prevede il completamento dell'arredo, l'illuminazione e il ripristino dell'aleno di Cesare e che andrà a completare la prima serie di lavori messi in campo già lo scorso anno. Verrà ulteriormente arredato con sedute, con percorsi meglio definiti, con illuminazione in modo tale che se anche quest'anno facciamo eventi come il cinema nel letto di Rubicone, quest'altro anno vogliamo far sì che diventi un luogo proprio di sosta. Già se avete occasione i bambini vengono a giocare al pomeriggio, lo attraversano, si divertono, insomma se ne sono riappropriati, per cui riteniamo che questo per noi debba essere una delle priorità collegata proprio con il centro storico. Sulla tavola degli italiani finiscono sempre più prodotti salutistici, come confermano alcune ricerche. Ne abbiamo parlato con il direttore commerciale di un'azienda romagnola che dei prodotti voltati al benessere ha fatto il proprio punto di forza. Sempre più vegetariani e vegani, e in generale sempre più persone che fanno più attenzione alla salute quando mettono i prodotti nel carrello del supermercato. Secondo gli ultimi dati diffusi da Airai, in Italia il mercato dei prodotti salutistici ha registrato una crescita su base annua del 24,5%. Il mercato sta avendo un'esplosione importante, figlio delle nuove tendenze, figlio di una nuova cultura che si sta rinnovando in moltissimi consumatori. Al di là dei consumatori, tra virgolette, specialisti come vegetariani e vegani, oggi veramente rileviamo il fatto che moltissimi consumatori sono molto intenti all'ingredientistica dei prodotti, agli apporti proteici, calorici. Sempre più vegetariani, ogni anno si moltiplica la percentuale anche in Italia. Sì, si stimano nel 2015 7 milioni e mezzo di consumatori che supereranno abbondantemente gli 8 milioni. Poi, oltre ai vegetariani, ci sono le nuove fasce che sono i reducetariani, i flexitariani, tutta una serie di nuove tendenze alimentari. Anche la città di Cesena ricorda nel ventennale della sua scomparsa la figura dello storico sindacalista di Gambettola, Luciano Lama e le sue decisive battaglie per i diritti dei lavoratori. 20 anni dalla morte di Luciano Lama, storico segretario della CGIL, già partigiano per la resistenza e per la liberazione di Forlì, nato a Gambettola. Un'occasione è quella di Cesena per ricordare non soltanto la sua eredità, ma per rapportarla anche alle esigenze mutate del mondo del lavoro del terzo millennio. Luciano Lama è stato un grandissimo personaggio, sicuramente figlio dei suoi tempi, che si è formato. Lui è nato negli anni 20 e quindi poi ha fatto il partigiano, poi ha fatto il parlamentare, ha fatto il sindacalista, è stato segretario generale della CGIL dal 1970 al 1986. Lama ci lascia l'eredità di una persona che, pur nei diversi ruoli, che ha vissuto e sempre è stato estremamente coerente, coerente con se stesso, una personaggio di grande dirittura etica e morale. Lama è stato un grandissimo dirigente, un grandissimo dirigente della CGIL, un grandissimo dirigente del Paese. Io credo che ancora oggi possiamo imparare tanto da Luciano Lama e tanto da persone come lui. La situazione è cambiata moltissimo, anche se le prime avvisaglie si avvertivano già, credo, chiaramente quando c'era Lama, a fine anni 70, inizio anni 80, da allora potremmo dire che è precipitata per essere sintetici quanto alla tutela dei lavoratori. È difficile dire cosa recuperare. Di sicuro quando lui cominciò non c'era nulla e quello che si ottenne, si ottenne grazie a una mobilitazione, grazie a una serie di iniziative, grazie allo sforzo di tanti, lui compreso. E continuiamo con le notizie insieme alle nostre brevi. Bologna, una donna di 41 anni originaria del Lazio, è morta questa mattina investita da un treno. A causa dell'incidente è stata sospesa la linea ferroviaria tra il Crapoluogo e Rimini fino alle 10.50 di questa mattina, con ritardi tra i 50 e i 120 minuti per tutti i treni in corsa. Forlì ruba il telefonino della madre dell'amico. Un ragazzo senegalese di 20 anni è stato messo ai domiciliari dopo che gli è stato trovato addosso il cellulare della madre di un ragazzo dalla quale si era recato in visita. Rimini, raffica di controlli della stradale per arginare il fenomeno dei veicoli senza assicurazione. Nella giornata di lunedì sono stati ben sei gli automobilisti pizzicati alla guida senza l'apposito tagliando. Cervia, a 95 anni mette in fuga il ladro. Un uomo ha tentato di mettere in scena la più classica truffa agli anziani fingendosi un amico della figlia per entrare in casa, ma il proprietario, nonostante l'età, non si è lasciato confondere ed ha prontamente chiamato il 112. Il malvivente si è così dato alla fuga. È arrivato il momento di informarci su quello che accade per quanto riguarda lo sport. Buonasera e bentornati all'edizione serale del Tg Sport. È ufficiale, gara 5 della serie tra Uniauro Folli e Gessi Valsesia si disputerà domani sera a Villa Romiti, stante l'indisponibilità del Palafiera. Biancorossi che dovranno necessariamente vincere per avanzare alla finale contro la Tramec 100. 28% for lì, tanto per gufare la Gigi, ci teniamo un 2% e speriamo di prenderla con 2%. Forse le percentuali gufatorie di Lorenzo Panza, tecnico di Valsesia, sono esagerate. Anzi, sicuramente lo sono, ma certo è che l'Uni Euro si affaccerà sul quinto e decisivo capitolo della semifinale contro i piemontesi con i favori del pronostico dalla sua parte, forte di una compattezza ritrovata in gara 4. Un successo che Forlì ha conquistato anche attingendo a piene mani dalle cosiddette seconde linee. Io probabilmente devo, con questi playoff che si gioca in 2-3 giorni, devo in qualche modo fidarmi un po' di più della panchina e cercare di fare dei cambi un pochino più stringenti, anche se io non sono mai stato un attore che fa cambi ogni 2 secondi, però è vero che giocare ogni 48 ore è veramente molto duro. In ogni caso sarà autentica battaglia e i biancorossi non dovranno dimenticare l'elmetto negli spogliatoi. È chiaro che noi dobbiamo fare il nostro e dipende da noi e dalle nostre capacità di recuperare le energie, di essere pronti mentalmente, perché questa è una squadra che non volerà niente, sono sicuro che non ci regaleranno niente. Passiamo ora al calcio, cambio in panchina per il Ravenna in Serie D. La nuova guida tecnica dei giallorossi è Mauro Antognoli. L'ex centrocampista di Varese Chievo Lumezzana e Rimini è alla sua terza esperienza da primo allenatore, dopo quelle sostenute con Bellaria e Ribelle. Con Antognoli arriva anche il nuovo staff tecnico, composto da Ivan Piccoli, allenatore in seconda, Davide Cosmi, preparatore atletico, e da Andrea Spinelli, preparatore dei portieri. Le novità per la prossima stagione non finiscono qui. Con l'incarico di direttore tecnico, approva da Ravenna anche Giorgio Screpis e si affiancherà a riconfermato di esse Matteo Sabadini. E passiamo ora al baseball. Giro di buona è il campionato nazionale di baseball e il vento sembra mutare il proprio indirizzo per le squadre romagnole. Tre sconfite frenano Rimini, mentre tre vittorie riportano in testa San Marino. Tutto ribaltato nella settima giornata dell'Italian Baseball League. I campioni d'Italia di Rimini incappano in tre pesanti K.O. contro Bologna. Prima in caso i pirati cadono 1-9, poi in Emilia franano con un pesante 13-1 e in gara 3 con un secco 9-2. Sorride invece la TA San Marino, che in anella è il tris vincente su Parma. Spettacolare la gara di chiusura in cui è avvenuta una rimonta per i titani per il definitivo 6-2. Ora le squadre al comando sono tre, Rimini, Bologna e proprio San Marino. Sì, soprattutto in difesa, tante valli dal momento giusto e diciamo che la squadra mi sembra che si sia compattata abbastanza in queste ultime settimane. Cercavamo di sistemare la difesa per poi sapere che la squadra avrebbe prodotto dei punti e quindi anche con l'aiuto di Ortega che ha lanciato bene per la prima volta nei giorni consecutivi abbiamo fatto un bel passo avanti. Sicuramente questa tripletta ci è servita sia dal punto di vista della classifica ma anche del morale e abbiamo avuto un passo falso settimane fa contro Rimini adesso ci stiamo riprendendo. Ricordo questa sera l'appuntamento con Panorama Basket alle ore 21. Tutte le altre nostre notizie sono visibili sul portale Teleromania24.it e sul canale 192 Teleromania Sport. Grazie per l'attenzione e buona serata. Vediamo invece ora che cosa ci aspetta per quanto riguarda le previsioni del tempo. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini dopo un inizio di settimana instabile che ha visto rovesci qualche temporale e il ritorno di qualche fiocco di neve sulle vette più alte del nostro appennino la giornata di martedì ha riportato gradualmente il sole su tutta la nostra regione e anche quella di mercoledì sarà bella su tutta l'Emilia Romagna infatti i cieli si presenteranno per lo più sereni o poco nuvolosi con solo qualche addensamento nelle ore più calde della giornata lungo il crinale dell'Appennino ma senza alcune precipitazioni infatti fino alla giornata di sabato sarà l'alta pressione a interessare tutta la nostra regione però apportando più nuvolosità soprattutto da metà settimana questa causa dell'aumento proprio dell'umidità a causa di queste correnti molto calde in quota direttamente dall'Africa le temperature saranno in costante aumento nella giornata di mercoledì avremo valori minimi compresi tra più 11 e più 15 gradi mentre i valori massimi saranno compresi tra più 20 e più 26 gradi poi tra venerdì e sabato attenzione perché potremmo raggiungere nuovamente punte oltre i 27 29 gradi per ora è tutto buona serata da Andrea Raggini e prima di salutarci rivediamo in breve le principali notizie del giorno tragica fatalità risolto il giallo della famiglia di sudamericani ritrovata cadavere in una villetta mamma e figlia sono morte e intossicate il compagno alla vista dei corpi si è suicidato stangata in spiaggia la polizia municipale ha sequestrato merce per 15.000 euro nell'ambito dei controlli contro l'abusivismo commerciale allarme edilizia non accenna a migliorare la condizione di sofferenza del settore delle costruzioni nella Ravennate emergenza smoghi in città nel 2015 i limiti di inquinamento dell'aria sono stati sforati per oltre 100 volte rilanciare l'economia questo è l'obiettivo di un piano varato dal comune per incentivare nuovi insediamenti produttivi riqualificare le aree industriali e creare occupazione dentro o fuori l'unieuro for lì si affaccia alla gara decisiva contro Valsesia con la consapevolezza di non poter fallire squadra in campo domani sera al Villa Romiti prima dei saluti vediamo il programma per quanto riguarda la serata sul canale 14 Teleromagna alle ore 21 panorama basket il format sulla pallacanestro romagnola Teleromagna News canale 74 alle 21.30 Icarus il format sugli sport estremi poi Teleromagna Sport il canale 192 in onda alle 21 Avellino Cesena la replica e poi Teleromagna Mia il canale 193 alle ore 21 appuntamento con Fiori in Popoli 2016 è veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del telegiornale di Teleromagna vi ricordo i principali appuntamenti con l'informazione dalle 7.15 della mattina la rassegna stampa e poi alle 14 alle 19 e alle 20 e 30 invece il nostro notiziario per tutte le news aggiornate Teleromagna24.it grazie dell'attenzione e una buona serata SIC società italtecnica Cesena da 30 anni specializzate in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati se voi avete un problema noi abbiamo la soluzione SIC e a Cesena in via Olivetti 85 zona industriale Pieve Sestina Infotech il partner HP in Romagna italicomagna24.it Si ave hai li hai